Grazie a tutti. Sono portati dal vivo in qualche occasione e non conosco il teatro. Cosa ti aspetti dallo spettacolo? Vedendo la modalità di lavoro sia di Sultumana che del gruppo della Compagnia di Teatro, sicuramente uno spettacolo di livello che riesca a toccare queste tematiche importanti di oggi, della giornata della memoria, unendole a un'atmosfera piacevole che possa arrivare a un pubblico vasto. Sono molto raffinati e fanno una musica veramente col cuore. Io infatti gli consiglio di ascoltarli. E oltre a questo fanno queste serate a tema, generalmente con molta attenzione e raffinatezza. E cosa ti aspetti? Bello come al solito. Mi aspetti di passare una bella serata, potendo approfondire i temi, ahimè, piuttosto importanti e noti, ma sotto una veste artistica che forse in qualche modo può dare un senso in più. Ci vediamo dopo così mi sai dire se effettivamente le opinioni rimangono tali e se le aspettative sono state osservate. Inizio con due parole che non sono mie. Voi che vivete sicuri nelle vostre tiepide case, voi che trovate tornando a casa il cibo caldo e i disamici, considerate se questo è un uomo. Oh 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 Tu non dai niente, singhara? Non assisti, dove vuoi là? Campo di ebrei Campo di ebrei Se sei uomo, smetti di essere uomo E fatti gigante E vienimi a salvare E mi prende fissarmonica E mi dice ecco Adesso suono E io suono E allora io corri là dove cantano E gli dice Feno, aspetta, aspetta Aspetta, io ti faccio uno conto Non è possibile Dice vestiti di nero Tu hai racconti belli Ma adesso non è possibile Stanno per arrivare russi E li parare di campo E allora canto ancora E allora canto ancora Raus, snelle Dice tutti i vestiti di nero Avanti, in fretta Stanno per arrivare di russi Sono lì Stanno per arrivare Presto, presto Avanti E spingono tutti i bambini E tutti quanti Davanti di portone E però, snelle Avanti, in fretta In fretta Andiamo ad andare Forza, forza Le aspettative non sono state Disattese Ottima qualità Che mi aspettavo Non sapevo Cosa avrei visto E devo dire Che è stato molto bello Coinvolgente E un vero memoriale Sì, ecco Bello Mi è piaciuto molto Io conoscevo già le canzoni Ma non lo spettacolo Mi è piaciuto moltissimo Cosa ti ha colpito di più? Il finale Il finale mi ha colpito molto In che senso? Mi ha lasciato spiazzato Il fatto Di com'è cresciuto Spettacolo molto Molto emozionante Direi equilibratissimo Per quanto riguarda Musica e parole Spettacolo azzeccatissimo Molto bello Complimenti a tutti È stato molto bello È stato molto toccante Delicato È veramente piacevole Cosa ti è piaciuto di più? Secondo me la commissione Tra musica e recitazione Funziona sempre benissimo È molto emotiva Diretta E i toni Che sono stati usati Per trattare di questo argomento È stato molto bello Perché con leggerezza Però sono riuscite Ad arrivare in profondità Che è un figlio Che rientro Tu è Omino Borda Omino Borda Quando vuoi fare Con noi Fai un figlio Fai un figlio Grazie.